Il rap nasce come parte di un movimento culturale più grande chiamato hip hop nel Bronx degli Stati Uniti d'America verso la fine degli anni 60. Già il fatto che questo genere musicale sia nato in questo contesto può far pensare ad un collegamento con lo stile di vita e l'ambiente appunto del Bronx e la presentazione del modo di esprimersi dei rapper. Il rap consiste essenzialmente nel parlare seguendo un certo ritmo. In Italia si sviluppò nei primi anni 80 passando da test in inglese a quelli in lingua italiana, riscontrando negli anni 2000 una notevole crescita commerciale. Ad oggi questa forma di musica è infatti una delle più ascoltate, soprattutto dai giovani, molto spesso anche al centro di diverse critiche, ottenendo sempre più attenzione a livello mediatico, per i contenuti forti dei testi delle canzoni o per qualche atteggiamento e disposizione dei rapper alquanto particolare. Genere ancora più spinto del rap è quello sviluppatosi tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, il trap. Una musica molto legata ad ambienti e tematiche relativa a vendita e dipendenza da droghe e da alcol. Inizialmente non era un genere vero e proprio, ma a fine primi anni 2000 questo termine indicava semplicemente un luogo, le trap house, ovvero appartamenti abbandonati e degradati dei soborghi dove si spacciavano sostanze stupefacenti, ma comincia poi ad essere utilizzato per indicare la musica legata a quel contesto. Inoltre, la parola trapping, slang, significa spacciare. In Italia le prime influenze della musica trap arrivarono nei primi anni 10, con brani considerati come alternativa al rap e si ritiene che i primi rapper italiani a praticare il trap furono Gua Pechegno, Sfere Basta ed il rapper italo-marocchino-maruego. Entrando nel dettaglio, infatti, si possono tirare linee comune della rappresentazione di un rapper e del suo modo di esprimersi attraverso la musica. Vestire largo con catene e cappelli suscitati dal fascino tra i cultori della cultura hip-hop, accompagnati da tatuaggi sul corpo e molto spesso anche sul viso. La figura della donna viene messa in secondo piano rispetto a quella dell'uomo e spesso nei testi viene sottomessa e maltrattata, anche con frasi molto dirette e poco carine. Vengono insultate, legate e viste come oggetto di sfogo sessuale, quasi rappresentando scene di femminicidi. La romanticità è del tutto lontana dal mondo del rap e del trap. Solitamente i rapper provengono da una famiglia non ricca ma piuttosto umile di qualche paesino, abituati a lavorare sin da piccoli e molto spesso con un contesto familiare caratterizzato da rapporti conflittuali con i genitori, che sono il motivo principale dell'indirizzamento verso il deviante dei rapper. Spesso sfogano queste situazioni negative con la droga, quasi sempre il protagonista oltre che della loro vita anche dei loro testi, con il sesso o con situazioni adrenaliniche o di protesta non del tutto legali. Viene utilizzato un linguaggio molto diretto, violento e non educato, che rappresenta la perfezione al messaggio deviante che in continuazione trasmettono nelle loro canzoni. Come emblema di questo discorso si può prendere la Dark Polo Gang, un gruppo musicale trap italiano nato a Roma nel 2014 e formato da Tony F., Wayne Santana e Dark Pirex, amici fin da piccoli. Molto criticata anche da diversi sostenitori dell'hip-hop italiano, già dal suo nome si possono intuire le principali tematiche percorse nei loro testi. Dark, ovvero scuro, un po' come gli argomenti trattati, e gang, parola molto significativa, in quanto richiama un ideale molto importante nel mondo del rap e del trap, il gruppo, per appunto la gang, persone definite fratelli proprio perché visti come parte della famiglia e anzi, molto spesso anche più importanti, per i quali si farebbe di tutto. Molto risuonate sono infatti le frasi Non si infama la gang o Tutto per i miei fratelli. La gang tratta di globalizzazione e della necessità di adattarsi alle sue regole per guadagnare e diventare famosi, da sempre unico obiettivo della stessa gang. Tra le tematiche affrontate dal gruppo ci sono infatti anche gli stupefacenti, la malavita, la passione per la moda, i soldi e l'amore. Hanno un modo di atteggiarsi molto aggressivo, vestono alla moda, sono pieni di collane, anelli e tatuaggi, indossano perennemente gli occhiali da sole. Analizzando i testi delle loro canzoni si può notare come nella canzone Sex on the Beach, oltre al titolo nonché di tornello ripetuto in tutta la canzone, che riprende in maniera diretta sia l'alcol che appunto il sesso, ci siano diversi riferimenti al discorso sessuale prima discusso. Oggi ti porti a letto, è tardi, fai presto, la uso e poi la getto, lei dice sempre sì, vuole me, ma è una bitch. La donna, vista come osaggetta, utile solamente per un unico scopo, definita inoltre in maniera molto diretta come poco di buono, e ancora, nella canzone Pesi sul collo, droga per queste prostitute, ovviamente definito da loro in maniera più volgare. Chiudo pacchi, apro buste e dopo spendo i miei soldi. Con il richiamo alla droga ed appunto la ripetuta definizione negativa della donna. Per ricalcare invece l'idea della gang, vista come famiglia, si può prendere in considerazione la canzone chiamata per l'appunto solo per la gang, che inizia proprio con la frase prostituta, detta sempre in maniera molto più negativa, vuole che la cerco, ho tempo solo per la gang, ho droga solo per la gang, alzo soldi solo per la gang, giura, a Roma non c'è nessun altro, ho tempo solo per la gang, rischio pene, vendo droga solo per la gang, dpg, 777, dark gang, 777, siamo una famiglia. Oltre a questo gruppo trap, nel mondo contemporaneo, il numero di rapper emergenti sono sempre in aumento e si uniscono a quelli ormai ben affermati e già famosi da tempo, e questo perché, seppur spesso per criticarla, questa corrente musicale è spesso sulla bocca di tutti e seguita dalla maggior parte dei giovani di oggi, che, seguendo i loro rapper preferiti come facessero parte della loro gang, tendono ad essere influenzati da loro e nel modo di esprimersi e anche di vestirsi. Cosa importante da notare è infine il mutare di questa tipologia e per lo più in negativo, dai primi rapper del passato a quelli più contemporanei di adesso, la tendenza al deviante è sempre più presente, percettibile e chiara.